A Mr. Panico sconfitta, primo tempo equilibrato, poi c'è l'espulsione, cambia un po' tutto. Sul primo tempo non direi, loro sono stati bravi a sfruttare un errore nostro, calcio di rigore ci sta tutto, poi penso che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutte e 40 minuti, abbiamo creato 4-5 niti de valle goal, poi a fine primo tempo abbiamo subito su un paio di errori nostri due tiri in porta. Secondo tempo è stata una partita diversa, meno qualitativa da parte nostra, abbiamo comunque creato, meritatamente secondo me siamo andati anche sul pareggio, poi un ulteriore errore purtroppo che non ci possiamo permettere, ma lo sappiamo, avendo una squadra molto giovane abbiamo finito la gara con 8 under, 9 under se non erro, quindi ci sa, alti e bassi, dopo una partita come quella di sabato scorso mi aspettavo una partita diversa, ma ci sa quando si lavora con tanti giovani. L'espulsione di Agata è stata un po' determinante perché sono mancati un po' gli equilibri dopo l'espulsione. No, ma con tutto ciò, noi anche giocando in 10 abbiamo lavorato sulla loro metà campo, loro dopo l'espulsione di Agata comunque ripartivano in contropiede, non è che hanno avuto il pallino del gioco, noi abbiamo giocato in 10 ma siamo stati nella loro metà campo, non abbiamo tirato in porta, non siamo stati concludenti, non abbiamo subito, poi alla fine ci sa, ho schierato quasi una squadra molto offensiva, ci sa di prendere qualche contropiede, però diciamo che forse non sono contento di come abbiamo giocato, soprattutto nel secondo tempo, forse il risultato più giusto era almeno un pareggio, ma va bene così, faccio i complimenti alla squadra avversaria. Un Barano che cerca di risalire la classifica, come l'ha vista lei? No, no, il Barano secondo me è una squadra di qualità, soprattutto dalla cintola in su, c'ha davanti giocatori tecnici, bravi, veloci, l'attaccante centrale strutturato che dà fisicità, ma che sa lavorare anche bene con i piedi e poi soprattutto oggi hanno giocato con tre giocatori offensivi dietro di lui e quando la squadra ripartiva in contropiede ci faceva sempre, ci dava sempre molte difficoltà, a noi mancava qualche giocatore importante, però ci sa, non sono alibi, se il Barano avrà sempre questo spirito avrà ottime chance per salvarsi sicuramente. Grazie.